La mia partita è cercare di far capire al palazzo, entro cui entrerò, spero, di far capire l'importanza dell'impresa, dell'economia reale rispetto all'economia finanziaria. L'economia reale, le nostre aziende, i nostri imprenditori invece generano posti di lavoro, lavoro autentico, non occupazione sui generis. Lavoro autentico, ecco perché bisogna detassare il lavoro, ecco perché bisogna assolutamente essere accanto ai nostri imprenditori. I giovani in generale devono andare a votare perché devono essere furbi, si devono fare furbi, perché c'è qualcuno che gli sta portando via dei pezzi della loro libertà, pezzi dei loro diritti, quei diritti che la Costituzione prevede anche per loro. Ecco perché si devono fare furbi, perché il racconto generale è quello di distrarli, è quello di portarli fuori dalla conoscenza dei loro diritti e dalla coscienza piena dei loro diritti. Poi è chiaro, io in campagna elettorale non posso che dirvi state accanto al Movimento 5 Stelle perché è un movimento giovane, perché è un movimento che non ha delle tossicità rispetto al passato, non ha delle colpe da farsi perdonare. Ecco perché siamo più affidabili degli altri, perché non abbiamo colpe di cui farci perdonare.